Per un minuto di Storia con Mario oggi parliamo dell'Egira. Che cos'è l'Egira? È la giornata il 16 luglio del 622 d.C. in cui Maometto con i suoi devoti fa il viaggio dalla Mecca alla Medina. È una data particolarmente rilevante questa del 16 luglio 622 perché è la data di inizio del calendario islamico. L'Egira è dunque il die sad quem del mondo dell'Islam e i musulmani di tutto il mondo devono percorrere la stessa strada compiuta dal profeta Maometto. E infatti devono andare una volta alla Mecca e una volta alla Medina.